A Terra Nuova Bracciolini invece fa tappa Estra Group, un punto, informazioni per imparare a risparmiare nei consumi domestici. Dopo la pausa estiva riprende Estra in tour in oltre 50 località di tutto il centro Italia. Riprende da Terra Nuova Bracciolini, siamo in Piazza della Repubblica, un lungo itinerario per sensibilizzare il risparmio energetico al consumo consapevole dell'energia. Come funziona intanto questo tour di Estra per tante piazze del centro Italia? Praticamente c'è un gazebo che viene montato in tutte queste piazze del giro che fa Estra. Ci sono delle hostess che mandano materiale alle persone, le fermano, le persone che passano sono curiosi di questo gazebo molto colorato. Dove ci sono io e parlo, faccio questa flash lesson e praticamente sono delle spiegazioni relative a un risparmio della luce, dell'acqua e quindi affacciarsi un attimo al discorso dell'ecosostenibilità. Con queste schede che ho fatto riesco a farle entrare su concetti di risparmio, casalingo soprattutto, quindi risparmio della luce, spengere continuamente l'interruttore quando uno esce dalla stanza oppure chiudere il rubinetto dell'acqua quando uno si lava i denti. L'abitudine per esempio è quella di usare lo spazzolino, lavarsi i denti e sentire lo scroscio dell'acqua. Quindi sono piccoli accorgimenti che grazie a degli oggetti che abbiamo, facciamo vedere anche questi oggetti, la lampadina halogena per esempio rispetto a una lampadina tradizionale, il consumo 5 volte meno. All'inizio sembrano paroloni molto complessi ma si vede che c'è attenzione e qualcuno dice sì, ma io lo faccio già.